Ciao ragazzi bentornati a tutti sono sempre io Fabrizio Conte e ricordate questo è sempre il vostro miglior canale di fotografia vi invito ad iscrivervi se ancora non l'avete fatto oggi facciamo una bella non so se dire tutorial o recensione perché è davvero una puntata speciale voglio suggerirvi i migliori corpi macchina degli ultimi 2-3 anni ma non così a Vanvera ma tenendo presente appunto il vostro genere fotografico quindi ho diviso i vari generi fotografici in quattro macro aree vi suggerisco dunque i migliori corpi macchina a secondo del genere che voi amate e delle fotografie appunto che scattate più di frequente quindi davvero una puntata interessantissima ho realizzato questa solita recensione in vista del Black Friday ma anche del prossimo Natale siete pronti a vedere i vostri corpi macchina preferiti dopo la sigla allora bentornati sul mio canale vi ricordo innanzitutto che potete acquistare su Amazon il mio manuale di fotografia l'occhio digitale trovate il link in descrizione come in descrizione trovate anche il link per i miei videocorsi su Photoshop e sulla fotografia ma andiamo subito a vedere oggi di che cosa parliamo oggi parliamo appunto dei migliori corpi macchina che sono usciti tra le maggiori case costruttrici tra il 2019 ed il 2021 vi riassumo brevemente i criteri che ho ottenuto in considerazione per realizzare questa sorta di grandissima recensione allora innanzitutto ho degli appunti perché ovviamente la materia è abbastanza ampia i numeri sono tanti e potrei sbagliare allora che cosa ho ottenuto in considerazione? ho ottenuto in considerazione la costruzione in magnesio quindi i vari corpi macchina che vi elenco sono tutti in magnesio quindi l'anno di costruzione va dal 2019 al 2021 c'è un'eccezione che è il 2017 della D850 che è un corpo favoloso che ho voluto mettere in questa recensione ho preso in considerazione solo macchine full frame con tre eccezioni che sono quelle delle Fuji che sono ovviamente delle macchine a medio formato e della XT4 che è invece un APS-C che secondo me merita davvero tanto ovviamente registrano tutti video in 4K ma non è questo l'argomento principale della nostra recensione diciamo che ci siamo soffermati soprattutto sulle caratteristiche fotografiche ma appunto comunque fanno anche tutti i video in 4K ed inoltre per quanto riguarda come dire le caratteristiche oggi più in voga hanno tutte l'attacco per il microfono, per le cuffie ed il Wi-Fi queste sono le caratteristiche di base che noi prendiamo in considerazione affinché i corpi macchini rientrino nella nostra come dire recensione fatta questa precisazione vi faccio la carrellata dei corpi macchina che abbiamo appunto utilizzato che sono la Canon EOS R3 la Canon EOS R6 e la Canon 5D Mark IV per quanto riguarda Canon per quanto riguarda Nikon abbiamo preso in considerazione la D6, la Z7 II e la Nikon D850 per quanto riguarda Sony abbiamo preso in considerazione la Sony A1, l'ultimo mostro di casa Sony la 7R4 e l'Alfa 9 II poi abbiamo preso per quanto riguarda Fuji la GFX50S, la GFX50R e la XT4 ed infine per quanto riguarda Panasonic abbiamo preso in considerazione la Panasonic Lumix S5 la S1R e la S1H questi sono tutti i corpi macchine che appunto abbiamo preso in considerazione come potete vedere sono mischiati quindi abbiamo sia delle reflex che delle mirrorless questo perché? perché oramai il mondo dei corpi macchina si è un po' come dire omologato su alcune caratteristiche quindi è inutile oramai far differenze tra reflex e mirrorless c'è chi piace più l'una, c'è chi piace più l'altra ma a livello di performance è quello che a noi interessa di più hanno una sorta di equivalenza e quindi noi le prendiamo in considerazione in maniera come dire le mischiamo tutte insieme poi a chi piace di più la mirrorless terrà in considerazione di più quella a chi piace di più la reflex terrà in considerazione di più la reflex ok adesso andiamo a vedere mentre sullo sfondo vedete scorrere le immagini del mio ultimo documentario andiamo a vedere quindi quali sono le macro aree che abbiamo preso in considerazione tra tutti i generi fotografici abbiamo preso in considerazione il genere natura e sport due generi che sono accomunati da alcune caratteristiche come pure quello dello studio quindi fotografia in studio still life quello del reportage street photography ed infine quello del paesaggio e dell'architettura queste sono le quattro macro aree che andiamo a prendere in considerazione ovviamente con tutti i sottogeneri che poi esistono ma non potevamo prendere in considerazione tutti i tipi di generi fotografici tutti i sottogeneri altrimenti saremmo andati avanti per ore già così la vedo abbastanza lunga allora per quanto riguarda natura e sport quali sono le caratteristiche che accomunano il genere della foto naturalistica e della foto sportiva allora abbiamo preso in considerazione per tutti i macro generi diverse caratteristiche per quanto riguarda lo sport e la natura teniamo in considerazione la robustezza la velocità la tenuta degli ISO e la tenuta della batteria quindi a questo proposito tra tutte le macchine che prima abbiamo elencato chi è la vincitrice e chi è la macchina che noi consigliamo appunto per la fotografia di natura e per la fotografia sportiva allora innanzitutto su tutte vince una delle ultime macchine uscite che è la Sony Alpha 1 la Sony Alpha 1 è davvero un mostro e sto pensando già di fare una recensione dedicata solo a lei perché promette davvero delle prestazioni super allora vince perché? perché appunto è robusta abbiamo già detto i corpi sono tutti in magnesio tutti tropicalizzati quindi da questo punto di vista ci siamo la seconda caratteristica che abbiamo tenuto in considerazione è la velocità e da questo punto di vista è favolosa perché ha addirittura una velocità di 30 fps quindi di 30 frame al secondo terzo dicevamo la tenuta ISO perché ha una tenuta ad ISO espansi di ben 102.400 ed infine la batteria per quanto riguarda la batteria ve lo dico subito tutte le mirrorless che sono state prese in considerazione hanno comunque la durata della batteria ridotta e questa è un po' la pecca è uno dei grandi difetti o delle grandi differenze che intercorre appunto tra un corpo reflex ed un corpo mirrorless ok quindi prima in classifica la Sony Alpha 1 la seconda in classifica l'ammiraglia di casa Nikon e cioè la Nikon D6 la Nikon D6 dobbiamo dire è una macchina sostanzialmente progettata proprio per quest'ambito infatti arriva seconda dietro alle caratteristiche stupefagenti dell'Alpha 1 perché appunto la Nikon D6 ha innanzitutto un corpo robusto al 100% in magnesio resistente a diverse temperature sia per quanto riguarda il caldo che il freddo conosciamo tutti le ammiraglie di casa Nikon quindi niente da dire la raffica è sostanzialmente però la metà di quella della Sony quindi di soli diciamo soli attenzione 14 frame al secondo ha una tenuta ISO davvero strabiliante che addirittura espansa arriva a 3.280.000 ISO mentre nella modalità normale parte da 100 ISO fino a 102.400 ISO ed infine ha la batteria che davvero le batte tutte perché supera i 3.500 scatti dunque la Nikon D6 sarebbe potuta arrivare prima ma non l'ho messa per prima solo perché davvero i 30 fps della Sony Alpha 1 forse fanno la differenza terza classificata la EOS R3 la EOS R3 altro corpo fantastico quindi robusto quanto basta anche essa 30 fps quindi come la Sony quindi 30 frame al secondo arriva terza perché? perché ha una tenuta ISO inferiore a quella della Nikon quindi solo 204.800 ISO ed infine perché la tenuta della batteria non è così grandiosa si ferma solamente a 760 a scatti allora quarta in classifica arriva un'altra Sony la Sony Alpha 9 altra macchina spettacolare robusta con 20 fps 204.800 ISO di tenuta 690 scatti con la batteria infine abbiamo quinta classificata la EOS R6 altra bella macchina 20 frame al secondo 204.800 ISO espansi 306 scatti infine arriva l'altra macchina di punta delle mirrorless di casa Nikon che è la Z72 anche questa è una macchina davvero molto molto interessante che ha 10 fps 102.400 ISO 420 scatti allora la seconda macro area che andiamo a prendere in considerazione è quella diciamo della fotografia statica dove all'interno mettiamo il genere del ritratto dello still life e sostanzialmente della fotografia da studio le caratteristiche che andiamo a prendere in considerazione per i corpi macchina sono sostanzialmente la definizione quindi la risoluzione del sensore la velocità del flash quindi il sincro flash ed infine il peso perché il peso? perché oggi devo dire che anche la fotografia in studio come il ritratto al di là dello still life molto spesso viene eseguita non più con il treppiede quindi anche in studio si scatta a mano libera anche perché ovviamente si utilizzano i flash quindi la velocità è sempre molto sotto controllo e quindi difficilmente si scatta ad una velocità che ci potrebbe far incappare in un mosso dovuto appunto alla mano libera ho voluto tenere presente quindi quest'ultima caratteristica è quella del peso in questo ambito il corpo macchina primo classificato è la Sony A7R4 vince a mani basse perché ha un sensore di una definizione quindi di una risoluzione di 61 megapixel ha un sincro flash di un 250esimo di secondo ed infine un peso di 665 grammi allora tra le seconde classificate quindi troviamo due macchine medio formato dichiarate per medio formato che sono appunto la GFX 50S e la GFX 50R sono entrambi in medio formato in un corpo possiamo dire da reflex o da mirrorless per quanto riguarda la R le loro caratteristiche principali sono il sensore che misura 50 megapixel hanno un 125esimo di secondo in modalità sincro flash appunto abbiamo detto un peso che va dai 775 della R se hai 920 quella da S terza classificata la Sony A1 ancora una volta lei perché appunto ha il suo bel sensore di 50 megapixel ha una velocità in sincro flash da un 4 centesimo di secondo e pesa 737 grammi al di sotto troviamo la Z7 II che nonostante pesi di meno della Sony A1 ha però altre caratteristiche che la rendono meno efficace per la Z7 II abbiamo un sensore da 47 megapixel e una modalità sincro flash da un 2 centesimo di secondo infine al quinto e al sesto posto ho scelto di piazzare due macchine che per peso davvero non ci dovrebbero stare nella classifica ma sono due macchine davvero davvero molto performanti che nel caso in cui appunto facciamo fotografia statica possiamo utilizzare su treppiede se proprio il nostro braccio non ce la fa sono due macchine molto interessanti che mi sarebbe dispiaciuto lasciare fuori possiamo collocare dal quinto al sesto posto pari metri dal quinto e sono la Nikon D850 e la Lumix S1R entrambi pesano un chilo andiamo adesso a vedere quale macchina abbiamo scelto nell'ambito del reportage della street photography e potremmo dire anche del fotogiornalismo da questo punto di vista i quattro parametri che abbiamo preso in considerazione sono la maneggevolezza la tenuta degli ISO la raffica la robustezza ed infine la stabilizzazione questi parametri perché perché ovviamente nella fotografia di reportage di street photography o comunque nel fotogiornalismo c'è bisogno di una macchina comunque performante robusta che sia anche abbastanza veloce e che abbia questa caratteristica della stabilizzazione per permetterci di scattare in condizioni diciamo di scarsa illuminazione anche perché molto spesso chi fa questo tipo di fotografie non va in giro con un'ottica fissa ma va in giro con un'ottica zoom che sappiamo tutti è meno luminosa di un'ottica fissa quindi allora vediamo un po' da questo punto di vista devo dire sono stato un po' spericolato la prima in classifica infatti ho scelto l'unico sensore APS-C di questa nostra recensione che è l'XT4 la Fuji X-T4 perché la Fuji X-T4 secondo me rispecchia notevolmente tutte le caratteristiche che sono appunto la robustezza la velocità la raffica e la stabilizzazione ma la caratteristica che ho tenuto più in considerazione è soprattutto la come dire maneggiovolezza nel senso di peso è la macchina che pesa meno e l'elemento che influisce di più in questa categoria è proprio quello del peso quindi prima classificata l'XT4 con solamente 607 grammi di peso quindi ovviamente stiamo parlando di solo corpo macchina abbinate l'obiettivo che volete avete comunque una macchina che pesa davvero pochissimo è stabilizzata ed inoltre a tutte quelle altre caratteristiche che già abbiamo preso in considerazione la seconda classificata è la sony alfa 9 anch'essa stabilizzata con soli 678 grammi di peso per quanto riguarda ripeto le altre caratteristiche la robustezza la tenuta degli iso eccetera eccetera le abbiamo già appurate quindi non stiamo a ripeterle terza classificata invece arriva la eos r6 con 680 grammi di peso altra macchina spettacolare quarta classificata ancora una volta la sony a1 che si ferma solamente a 737 grammi infine abbiamo la nikon z7 2 con 705 grammi la nikon va sotto la sony perché si pesa di meno ma ha alcune caratteristiche che sono inferiori a quelli della sony ed infine abbiamo ancora una panasonic che è la s1 h con 1052 grammi stabilizzata che ho voluto mettere all'ultimo posto perché è comunque una macchina che vale ovviamente rispetto al peso avremmo potuto inserire anche la nikon di 850 queste due ultime macchine a livello di peso sono sostanzialmente sui 350 grammi e più al di sopra di quelle delle prime 5 veniamo ora all'ultimo ambito della nostra indagine quindi della nostra recensione che è il genere o meglio dire il macro genere paesaggio ed architettura abbiamo accoppiato questi due generi all'interno di queste categorie teniamo presente quattro caratteristiche principali che sono la definizione quindi anche qui la risoluzione in megapixel perché potremmo aver bisogno di stampe di grande formato la maneggevolezza la tenuta degli ISO e non ultimo la qualità del monitor posteriore questo perché molto spesso sia nel paesaggio ma ancora di più nell'architettura dove si usa molto il treppiede potremmo trovarci a scattare in alcune posizioni molto scomode quindi magari avendo il treppiede in tutta estensione quindi molto alto o addirittura appoggiando la macchina a terra o comunque il treppiede molto basso questo non ci consentirebbe appunto di poter utilizzare il mirino ottico quindi dovremmo basarci sull'efficacia e sull'efficienza soprattutto del display LCD e quindi ho tenuto in considerazione anche questo parametro allora la prima classificata è la Nikon Z7 II che per quanto riguarda la definizione della risoluzione del sensore a 46 megapixel ha una sensibilità ISO in modalità espansa che arriva a 102.400 e sostanzialmente è molto maneggevole perché è un corpo mirrorless abbiamo detto con un peso di solo 705 grammi ed infine ha il monitor migliore di tutte le macchine che abbiamo preso in considerazione al di fuori però dell'AD6 che raggiunge appunto 2.100.000 dots quindi 2.100.000 punti all'interno del suo schermo LCD la seconda classificata è la Lumix quindi Panasonic S1H che ha 47 megapixel raggiunge una modalità raggiunge in modalità estesa 51.200 ISO e anche essa ha un monitor di 2.100.000 punti terza classificata è invece la Canon 5D Mark IV che ha un sensore da 30 megapixel raggiunge in modalità estesa 102.400 ISO ed ha uno schermo LCD da 1.600.000 punti quarta classificata la D850 con 45 milioni di pixel 102.400 ISO ed uno schermo da 2.360.000 ovviamente è stata posta al quarto posto perché pesa un chilo ricordiamo sempre uno dei suoi difetti è purtroppo il peso al quinto posto l'XT4 51.200 ISO in modalità espansa 1.600.000 punti per quanto riguarda il monitor all'ultimo posto troviamo la Sony Alpha 9 II con 24 megapixel una tenuta ISO davvero molto notevole che arriva a 204.800 ISO uno schermo da 1.440.000 punti per pollice allora siamo arrivati alla fine di questa mega recensione a questo punto voglio dichiarare le macchine che vincono come dire al di sopra di tutte le categorie vi sono tre vincitrici nel primo posto si colloca comunque la Sony Alpha 1 perché l'ultima macchina uscita una delle ultime delle più recenti e promette davvero delle cose stratosferiche a prima occhiata devo dire l'unico difetto che ho potuto riscontrare almeno sulla carta è quello dello schermo LCD nello schermo posteriore che misura solamente 1.440.000 dot per ink e dobbiamo dire che il difetto delle Sony è proprio questo Sony crea tutte le sue minores nello stesso corpo sostanzialmente nello stesso peso sostanzialmente con le stesse caratteristiche infatti lo schermo LCD in tutti i modelli è di 1.440.000 dot questa è l'unica pecca che posso riscontrare appunto in questa macchina al secondo posto potremmo dire anche pari merito con la 1 si colloca un'altra Sony che è la Sony 7R4 altro mostro come abbiamo visto con ben 60 megapixel 10 in più della Sony alfa 1 altro corpo stratosferico che differisce dobbiamo dire sostanzialmente dall'alfa 1 per la velocità della raffica quindi dove andiamo da 30 fps a solo 10 e per quanto riguarda i punti di messa a fuoco che si differenzia tra l'alfa 1 759 la 7 ne ha solamente per modo di dire 567 al secondo posto si piazza la Nikon Z7 II che è una macchina davvero molto performante anche questa è una sorta di macchina medio formato oramai sono un po' tutte così anche questa è molto performante a livello di tenuta ISO una macchina che devo dire davvero fatta bene da parte di di Nikon che ha tenuto presente molte lamentele da parte della sua clientela e sono state tutte soddisfatte al terzo posto devo dire voglio non so fare anche un po' una provocazione voglio mettere l'unico sensore APS-C che è quello della Fuji X-T4 perché? perché la X-T4 batte tutti devo dire con una tenuta ISO davvero davvero molto 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 buona tenendo presente che parliamo sempre di un sensore APS-C e dalle foto che girano devo dire che ad esempio a 6.000 ISO si comporta molto meglio di altre macchine anche full frame secondo per il peso e terzo devo dire anche per la robustezza è una macchina davvero fatta molto molto bene e non per ultimo il prezzo per quanto riguarda le macchine che abbiamo preso in considerazione sono tutte macchine di fascia molto alta devo dire la macchina che costa meno sarà intorno ai 3.000 euro mentre la X-T4 appunto è l'unico sensore APS-C è anche l'unica macchina che ha un prezzo accessibile diciamo un po' a tutti e davvero con questa macchina devo dire riuscite a soddisfare tutte le macro aree che abbiamo preso in considerazione seppur tenete presente che in alcune come ad esempio quelle più estreme come la natura e lo sport non dà il massimo però devo dire per quello che costa è davvero il miglior rapporto qualità prezzo con questo concludiamo questa mega recensione su tutti i corpi macchina migliori attualmente presenti sul mercato e vi invito a scrivere nei commenti che cosa vi è piaciuto che cosa non vi è piaciuto a darmi altri suggerimenti a criticare le mie scelte perché ovviamente sono molto opinabili ma devo dire in occasione appunto del Black Friday di Halloween e di quello che sarà poi il Natale ho voluto prendere in considerazione questo tipo di di video credo che ne realizzerò un altro anche per dei corpi macchina di fascia medio-bassa così da accontentare un po' tutti perché ovviamente questo è un po' di nicchia è un po' come dire rivolto agli amatori evoluti soprattutto di portafoglio devo dire e comunque siamo i professionisti e professionisti molto bene ci vediamo al prossimo video vi saluto tutti vi saluto vi saluto vi saluto